Comunicare significa intanto essere qua. Ognuna di queste tensioni definisce il modo in cui comunichiamo. La porce. Immaginare un gesto che possa esprimere questo perché, questo qualcosa che vi piacerebbe ottenere. E poi guarda che so fare, oh, so tutto così senza far cadere niente, oh, su, senza far cadere niente dal piatto. E poi guarda che so. E poi guarda che so. E poi guarda che so, dobbiamo imparare ad usare il corpo in una maniera diversa rispetto a quella che abbiamo imparato qua. La presenza dell'attore vuol dire esserci, appunto stare bene con se spessi e trovare il piacere, il gusto. E' finito il tempo dell'agricoltore che sta molto zitto piegato sulla sua zappa e dice 24 parole in voce. Alla fine l'agricoltura è tra tutti i settori economici quello che vi c'è la vita. Voi siete persone che hanno scelto di stare in agricoltura non per fare un lavoro ma per fare la scelta di vita. La sfida è quella di fare in modo che Cristiano Valdoncini che fa dal seme al pane tutto da solo, senza mattinari, senza contributi eccetera. E come lui ognuno di voi ha una sua formula, una sua idea, un suo percorso, il mio scopo è quello di far sì che ognuno di voi abbia la voce. Alla fine l'agricoltura Alla fine l'agricoltura Alla fine l'agricoltura